Cosa ne pensi di tutte queste biciclette? Sono fantastiche, ne vorrei vedere tutti i giorni. Quindi per lei una Genova Ciclabile è possibile? Assolutamente, però bisogna volerlo, nel senso dipende dal singolo, poi neanche tanto dalle istituzioni. Bisognerebbe che tutti iniziassero a usare le bici e poi andrebbe da sola la cosa. Secondo compleanno di Genova Ciclabile, com'è stato? Beh, è bellissimo perché abbiamo riunito tante persone e stiamo facendo delle cose interessanti. Le ciclabili crescono, non saranno ancora perfette, ma si migliora sempre in corso d'opera. È un bel gruppo perché c'è partecipazione costruttiva, persone per bene, brillanti, che hanno voglia proprio di contribuire a una mobilità migliore per tutti gli utenti, non solo per i ciclisti. E soprattutto, come diciamo, a partire dai più fragili, dai pedoni che, ahimesso, sono quelli che a Genova vengono falciati di più che in tutte le città italiane da qualche anno. Quindi, questo è un punto molto, è dolente, è molto importante da affrontare. E poi la mobilità, la mobilità per tutti, perché per tutti, anche per quelli che devono usare l'auto, non che non possono più muoversi. Per tutti vuol dire per tutta la città. Il vostro motto non è zero auto, ma meno auto, oppure zero auto dove è possibile? Eh sì, bravo, hai detto giusto. È zero auto dove è possibile, dove possono essere create zone pedonali con vantaggi anche dei commercianti, no? Perché, allo stato attuale, è improponibile zero auto. Sarebbe una condanna per chi non può farne a meno. Quindi, meno auto, molto meno auto. Poi, andando in un settore di cui non so quasi niente, ma come utente mi tocca, in trasporti pubblici molto efficienti, ecco, bisogna arrivare al punto di dire, ma perché devo prendere la macchina che è un tormento? Fammi prendere l'auto, oltre a farmi andare in bici, ma se ne voglio, no? Perché sono obbligato, perché sono quelli delle ciclabili che mi ci fanno andare, no? Cioè, la libertà di scelta, ma soprattutto migliore mobilità. La bici a Genova è possibile? Possibilissima, sono dieci anni che vado in bicicletta a lavoro tutti i giorni, a fare la spesa, andare anche in vacanza, a Genova, perché si può prendere ferie e essere turisti nella propria città, in bicicletta. È molto, molto facile. Mancano ancora dei piccoli passaggi che stiamo chiedendo e che arriveranno e che aiuteranno anche, magari, chi ha un po' più paura ad altro a poter andare in bicicletta e usufruire della bicicletta tutti i giorni. Meno macchine, più bici, più mezzi pubblici. Questa è la soluzione. Questa è la soluzione.